A Don Gianluca l'ultimo pullman, quello di Beata Giuliana e San Giuseppe, che si è fermato anche un po' per rifocillarsi, che era necessario. Ma i ragazzi hanno fatto tanta fatica, ma hanno avuto tanta gioia e tanta ricarica, giusto, in questi giorni. Sì, sì, il Papa ci ha caricato in una maniera assolutamente straordinaria. I suoi messaggi semplici ma molto diretti ci hanno sicuramente toccato, ci hanno allargato il cuore, ci hanno segnato dentro. Ringraziamo tanto Papa Francesco perché ci ha dato una bella scarica elettrica di cui probabilmente in questo momento avevamo un po' tutti bisogno. Ci ha proprio gasato e quindi noi torniamo belli carichi dopo aver ascoltato soprattutto le sue parole. C'era l'incitazione a non avere appunto paura, qua riferimento fondamentale a Maria, giovane donna che alza, va, rischia. Questo ha colpito molto dei giovani e delle giovani che si trovano comunque in un'epoca ricca di fragilità e problemi. Sì, io spero proprio che questi giovani portino nel cuore l'immagine di Maria, questa giovane ragazza che ha il coraggio di rischiare, di scommettere un po' tutto, che si alza, corre in fretta verso la montagna. Davvero io penso che la vita vada vissuta così, con molta grinta, con molto mordente, con molto entusiasmo, anche con una grande dose di rischio perché se non si rischia davvero nella vita non si potrà mai essere felici. Io ai miei giovani, ma tutti i giovani che hanno partecipato a questa straordinaria esperienza, auguro proprio questo. Prendete mano la vostra vita con tanto coraggio, abbiate sempre il coraggio di osare e di rischiare perché non si può mai essere felici a meno di questo. Gianluca, lei ha portato a vivere un'esperienza così nelle ultime sue settimane qui, poi lei sarà parroco a Vedano e le porte rimanano sempre aperte per i suoi ragazzi, giusto? Certo, certo. La casa parrocchiale di Vedano Luna è enorme, quindi quando vogliono venire il posto c'è per tutti sicuramente. La casa parrocchiale di Vedano Luna è un'esperienza così di Vedano Luna è un'esperienza così